FidoSpeed presenta FidoFarma Sei impossibilitato ad andare in farmacia? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi! Consegniamo i farmaci direttamente a casa tua o nel tuo ufficio in poche ore. Inoltre, andiamo anche a ritirare le ricette dal tuo dottore e svolgiamo per te commissioni di qualsiasi genere per garantirti un'assistenza a 360 gradi. Chiamaci, fai il tuo ordine e ricevi subito il tuo farmaco. FidoFarma, consegna di farmaci a domicilio.